Arrivano dati rassicuranti dai prelievi effettuati dall'Arta nella discarica abusiva di rifiuti di Colle Marcone di Chieti, andata a fuoco per un incendio doloso il 27 giugno dello scorso anno. L'Agenzia regionale per l'ambiente e il territorio ha esaminato l'acqua piovana caduta sul terreno e i campioni di terra prelevati nella discarica. Nel primo caso i parametri chimici di base, i metalli, gli idrocarburi e i solventi organici sono risultati nella norma. Stessa cosa per i campioni di terreno dove l'Arta ha cercato metalli, solventi, idrocarburi, policiclici, aromati. Tutto entro i limiti di legge. A rendere noto il contenuto delle analisi è stato il comune di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio infatti aveva chiesto che venissero analizzati gli inquinanti dell'impianto che ricade nel comune capoluogo e che è al confine con quello di Bucchianico. Risultati confortanti, dice il primo cittadino, che attende che l'Arta invii i codici CER dei rifiuti stoccati in modo da avviare il progetto di recupero. Proprio quello della bonifica e del recupero del sito è l'aspetto più complesso ma anche il più urgente ed atteso dai cittadini preoccupati anche per la situazione d'abbandono della discarica abusiva. Per bonificare l'area servono tra i 450 e 500 mila euro che dovranno essere utilizzati per prelevare e classificare i rifiuti presenti, per smartirli e per mettere in sicurezza l'area interessata. Il comune di Chieti ha le casse in rosso e quindi si guarda i fondi regionali che per il momento non sono stati ancora stanziati.